Ciao a tutti e benvenuti su Bimbi Creativi. Oggi vi voglio far vedere come utilizzare la scheda per creare questi simpatici cappellini invernali, queste berrettine. Allora la scheda innanzitutto la potete scaricare dal mio blog www.bimbicreativi.it. Cosa fare poi della scheda? Prima cosa colorarla, quindi coloratela con i colori che preferite, in questo caso io ho usato il verde, il giallo, il viola, il rosso e l'azzurro e poi potete ritagliarla. Io adesso non la coloro per questioni di tempo però la ritaglio per farvi vedere come utilizzare questa scheda. Altra cosa, se volete rendere la scheda più resistente in base all'utilizzo che dovete fare di questa decorazione, vi consiglio una volta colorata di incollarla su del cartoncino, quindi non fatelo prima perché se lo fate prima si fa poi fatica a colorarla perché magari restano delle tracce di colla sopra e quindi non si colora molto bene. Quindi il consiglio che vi do è prima di tutto di colorare le schede e poi in seconda battuta eventualmente di incollarle sul cartoncino. Quindi una volta che abbiamo colorato la nostra scheda che l'abbiamo ritagliata, cosa facciamo? Semplicemente la incolliamo e adesso vi faccio vedere come. Poi una volta che l'avete incollata potete utilizzarla per fare un lavoretto a tema inverno oppure potete usarla anche come decorazione per le finestre oppure per l'aula, per la casa, per la cameretta, insomma per quello che volete. Oltretutto sto lavorando a tantissime novità per cui nei prossimi giorni, non ho ancora una data precisa ma spero a breve, potrete trovare in vendita anche gli ebook dei lavoretti creativi, quindi non solo i libri cartacei che già trovate in vendita su Amazon ma ci sarà la possibilità di acquistarli anche in formato ebook e quindi le schede poi ve le potrete stampare da soli all'occorrenza e quando ne avrete bisogno. Quindi è un'importante novità perché finora i libri dei lavoretti creativi erano disponibili solo in versione cartacea, invece ho deciso di fare anche l'ebook, ho trovato una piattaforma che mi piace per fare questo tipo di vendite, vi anticipo già che si chiama Gumroad e niente quindi spero presto di riuscire a darvi anche il link per poter acquistare gli ebook in formato cartaceo. Gli ebook sono quelli dei lavoretti creativi, quindi vari libri che trovate attualmente come vi dicevo su Amazon. Questa scheda invece è gratuita e la trovate sul mio blog quindi su www.bimbicreativi.it. Adesso sto tagliando abbastanza velocemente e come vi dicevo ho deciso di lasciarle in bianco e nero per farvi vedere la differenza. Qui semplicemente si taglia. Ora vado ad assemblare la mia scheda, anzi le mie schede. Allora come abbiamo visto prima servono per creare questi berrettini quindi la prima cosa da fare sarà quella di incollare il sotto. Uno, vado a prendere l'altro e due. L'altra cosa da fare invece sarà quella di creare i pompon. I pompon si creano con queste strisce quindi ne vanno quattro per ogni berrettina. Incollo la parte centrale quindi l'incollo nel mezzo e poi vado a girare verso l'interno le strisce per realizzare i miei pompon. Se volete potete anche fare una pieghetta prima poi di mettere la colla. Magari ecco la pieghetta per capire dove è il centro vi conveniva farla prima di mettere la colla. Comunque anche fatta successivamente non è un problema come potete vedere. Allora vado a piegare e forse ad incollare. Vediamo se ce la faccio. Ecco qua sono un po' uscita dalla camera perché non sono tanto abituata a questo tipo di inquadrature. Ultimamente sto facendo tutti i video in verticale e quindi anche se resto un po' più bassa si vede lo stesso. Invece una sopra l'altra in questo modo e vado a creare il mio pompon che poi andrò a mettere qua in cima. Vedete? Ecco qua. E così ho realizzato il mio berrettino. Ora con calma farò anche il secondo. Il risultato finale colorato come potete vedere è questo e a me sinceramente piace moltissimo. vi ripeto brevemente trovate la scheda per stampare i capellini sul mio blog quindi su www.bimbicreativi.it se invece vi interessa acquistare i libri creativi quindi il libro dei lavoretti creativi lo potete acquistare su amazon scrivendo nella lentina di ricerca Irene Marzi libri. Prima di lasciarvi vi faccio vedere un'altra scheda interessante per l'inverno anzi altre due schede che trovate sempre sul mio blog. Guanti a pallini e guanti con le stelline. Per oggi è tutto vi saluto vi ringrazio e vi ricordo di iscrivervi al mio canale youtube per restare sempre aggiornati con tutte le novità. Alla prossima ciao a tutti